Non sono un attore, Simonide. E io non sono un drammaturgo, ma in vino Veritas Diocle. Mio caro Bayek, stavamo parlando di te. Devo preoccuparmi? No, no. Simonide vuole che reciti nella commedia che ha scritto su Leandro. Il grandioso trionfo dei luminari di Cirene. Bel titolo. Sa anche lui che è un po' banale, ma forse una festa riporterà un po' di buon umore. Per questo, ho un ultimo favore da chiederti. Non bisogna recitare, vero? La villa di Leandro deve essere restituita al popolo, ma senza il documento è impossibile. I romani non ci lasciano cercare nell'ufficio di Leandro all'acropoli. Ci penso io. Lo troverò.